Salvatore Caffiero, Presidente della Delegazione Borgo di Confcommercio Taranto. Una manifestazione significativa, quella di quest'oggi. I commercianti non si arrendono, vogliono far sì che l'amministrazione comunale risponda, ammesso che ne sia capace. Come ben dici tu, ormai la misura è colma. I temi che stiamo mettendo sul tavolo sono tanti. Sono già a conoscenza dell'amministrazione comunale e attualmente non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Parliamo dell'abusivismo, vogliamo parlare dell'abusivismo. Via del Quino e Via di Palma sono ancora piene di abusivi che vengono lì, mettono i loro teloni a terra con la loro merce davanti ai negozi, a danno dei negozi. Questa è una piccola rassegna stampa del 2015, di maggio 2015, dove ci sono stati proclami da parte di tutte le forze, dell'amministrazione in particolare, ma ad oggi non è cambiato nulla. Io invito il sindaco, chi per lui, gli amministratori a farsi un giro nelle nostre vie e a vedere cosa accade. Il borgo sembra ridotto, sembra l'ultima delle periferie, è paradossale. Eppure il borgo dovrebbe essere il biglietto da visita della città? Dici bene, dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Qui oggi siamo in Piazza Castello, col castello alle nostre spalle. Dall'altra parte del ponte c'è il museo. Quello che dovrebbe essere il bigliettino da visita per chi viene da fuori invece è ridotto davvero allo stremo. La sporcizza ormai è dilagante. Durante le domeniche di apertura ci ritroviamo davanti a cassonetti non suotati. Un altro aspetto che mi piacerebbe rimarcare è quello degli eventi calati dall'alto. Qualcuno vuol far passare la nostra associazione come l'associazione del no verso gli eventi. Noi non diciamo no agli eventi. Noi diciamo che quegli eventi che vengono fatti possono essere fatti in altri luoghi del borgo, più adatti a quel genere di eventi. E rimarchiamo un aspetto. Noi vogliamo eventi di qualità. Se i mercatini di Natale si chiamano, mercatini di Natale alla fine devono essere. E non deve essere un grande siucca allestito nella piazza principale della città d'arrostire salsicce. Le arrostiamo le salsicce, però ci sono altri luoghi nello stesso borgo più adatti per fare quel tipo di eventi. Grazie.